Percenzione del lusso sicuramente è cambiata in quanto determinati vini di un'alta gamma si vendono sempre meno in Germania, il prezzo medio è calato notevolmente, alcuni vini parlando di punte come Solaia, Ornellaia, Tignanello si vendono sempre di più nell'enoteca, quindi vengono bevuti a casa, sempre meno nella ristorazione, anche perché abbiamo raggiunto dei prezzi che sono quasi impossibili per il consumatore, oltretutto è cambiato molto il sistema di ristorazione in Germania, per cui questa fascia qui ne risente sempre di più.